Un altro segmento di prodotti tablet di cui si parla da molto tempo in casa ASUS è il segmento di 711. Poi possiamo trovare quello che è stato il prodotto che abbiamo mostrato a lungo tempo, ma di cui la commercializzazione non è mai avvenuta appieno. È avvenuta solo in alcune country particolari del mondo. Un po' per design, un po' per caratteristiche tecniche. In questi giorni è stato annunciato un nuovo MEMO 370T. Il prodotto avrà un processore di tipologia Tega 3 e, riprendendo quelle che sono le abitudini ultimamente introdotte da parte di casa ASUS nel mondo e tablet, verrà dotato con tutte le ultime tecnologie. Il prodotto verrà commercializzato prima dell'estate di quest'anno. Non è prevista una versione 3G, ma solo una versione Wi-Fi del prodotto. E qua possiamo avere una piccola anteprima di quello che sarà il design effettivo, quindi più stondato rispetto alla versione ME171. la dotazione della webcam, che sarà e rimarrà 8 megapixel, come è già successo nel Prime, e un'ampia dotazione audio che sarà sul rango. Sicuramente questo è ancora solo un mock-up, abbiamo qua la prima versione utilizzabile. Prevediamo di introdurre subito su questo prodotto Ice Cream Sandwich come sistema operativo e quindi è integrata come processore. Quindi il massimo delle prestazioni è il massimo del sistema operativo. e quindi vi faccio su questo prodotto qui è questo. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.